Pronti? Prima, seconda, terza, quarta. No, lasciamo andare. Facciamola girare un po', sì, intanto sì. Tirare in piedi quando riesci, non quella, ecco, sì, buona, quella. Ok, io? Sì, sì. Faccio, faccio ancora una volta. Pronti con le tre grosse, eh? Allora, terza, quarta. Pronti? Con le quattro, le chiamo la seconda, eh? Pronti? Seconda, terza. Pronti? Tutte e cinque? Pronti? Prima, seconda. Buona la prima! Guarda, facci. Pronti? Pronti? Prima, seconda. Pronti? Prima, seconda. Pronti? Pronti? Prima, seconda. Prima, seconda. Facciamo seconda, terza prima. Ok. Aspetta, aspetta, quando la chiamo, eh? Quando chiamo seconda? Niente, niente. Pronti? 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 Seconda, terza prima, quarta seconda. Ok? Aspetta, eh? Adesso chiamo terza prima, quarta seconda. Pronti? Pronti? Terza prima, quarta seconda. Pronti? Terza prima, quarta seconda. Adesso chiamo. Adesso chiamo. Tutto questo materiale è per lui, eh? Sì, sì, non mi ha cambiato. Adesso chiamo. Quarta seconda, terza prima. Ok? Pronti? Quarta. Seconda, terza, prima. Pronti, scala normale. Prima, seconda. Pronti? Prima, seconda. Quattro di Bergen. Le chiamo tutte. Tu Mattia, quella quarta, vai al voto. No, tieni anche la prima, perché te la chiamo. La butto dentro insieme a terza. No, è quell'altra. Quattro di Bergen. Pronti? Seconda. Terza, prima. Quattro di Bergen. Pronti? Scala. Prima, seconda. Quattro di Bergen. Non sta il tempestando. Tempestava ancora dopo. Però era quella lì che si sova. Anche adesso? Qui da sola ero qua, piccolina, tirampietto, ma li hanno andato a tempestare alcun. Ma anche adesso? Facciamo le vargigia. Le chiamo tutte. E qua la rossa. Tento di andare al voto della prima, che sarà impossibile. Però va bene. Quarta. Terza. Seconda. Prima. Quattro di Bergen. È un prossimo. È un prossimo. Ah, si è andato due volte quella piccola. Ancora, ancora scambi. Prima, seconda. Allora, passiamo il pre-ostra. Ah, si. Lento o veloce? Lento. Normale, clicchiamo tutte. Ok, io parto, è terza. Seconda. Quando vuoi. Seconda. Pronti, scala. Prima, seconda. Andiamo indietro e poi andiamo avanti con le tre grosse. Pronti? Quinta. Quarta. Terza. Seconda. Prima. Pronte le tre? Terza. Quarta. Questa. Un po' di scale veloci poi inizia ad andare su all'organo. Ok? Pronti? Prima. Seconda. Seconda. Pronti? Prima. Seconda. Pronti? Prima. Seconda. Pronti? Pronti? Prima. Seconda. Pronti? Pronti? Pronti. Pronti? Prima Seconda Moriamo? Prima Seconda Sì 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 Dovete Dovete all'interno Grazie.